Ciao a tutti, questo video è in collaborazione con manzara.it che è un'azienda che vende online vari articoli di abbigliamento, accessori, scarpe, borse c'è anche tutta una sezione taglie forti e ben rifornita e io sono stata contattata da loro, questo è il nome, manzara e mi hanno dato la possibilità di scegliere un abito poi comunque andiamo incontro alle festività quindi la scelta era tra abiti da sé, abiti eleganti io ho scelto quello che sto indossando che poi vi faccio vedere bene sul sito ci sono vari articoli per ogni articolo c'è una tabella dove sono indicate bene tutte le misure quindi basta misurarsi per trovare la cosa adatta infatti io davvero quando mi è arrivato il vestito sono rimasta quasi stupita di come mi stesse bene perché effettivamente è proprio giusto per me molto romantico, molto adatto a me e ai miei gusti quindi ora io metto un video in cui ve lo faccio vedere indossato bene e vi faccio vedere anche un'alternativa visto che comunque la stagione è fredda vi faccio vedere anche come può essere indossato con un giacchino sopra un giacchino carino io ne ho uno, tra l'altro è anche blu meglio nero comunque era solo per farvi vedere come sta ecco come si può indossare un abito così scollato anche in una stagione così fredda vi lascio al video vi faccio vedere come si può indossare un abito così fredda ve lo faccio vedere anche da vicino c'è questo bel tulle morbido sotto la gonna è tipo raso vedete come è lucida e qui invece di questo bel tessuto bello spesso qui di fianco c'è la cerniera è molto bello questo tessuto che c'è sotto lucido faccio vedere anche l'orlo eccolo qua eccomi qua avete visto l'abito indossato avete visto come sta a me e vi ho anche mostrato un'alternativa magari per coprire un pochino le spalle visto che comunque la stagione è fredda con un giacchino qualsiasi un po' carino sta benissimo e io lo trovo veramente un vestito romantico veramente perfetto per me perché io sono così mi piacciono le cose romantiche e poi è veramente fatto benissimo fatto veramente molto bene come vestito quindi non lo dico così lo dico lo dico perché i miei genitori hanno lavorato una vita nell'alta moda e quindi sanno riconoscere una cosa quando è fatta bene infatti l'ho fatto vedere a loro e mi hanno confermato appunto che il tessuto è buono è bello cioè è bello spesso il tulle è morbidissimo le decorazioni sono fatte molto bene le cuciture anche non ci sono cuciture magari tagliate male insomma il mio vestito devo dire che è veramente fatto molto bene come vi dicevo sul sito c'è una tabella con tutte le misure precise quindi basta prendersi le misure per capire se un abito andrà bene o meno c'è anche la lunghezza la lunghezza delle maniche non so vabbè quelle solite misure la vita torace veramente tutto e le spedizioni sono veloci appunto non si pagano se si spende più di 50 euro io trovo i prezzi di questo di questo sito molto molto convenienti perché comunque ci sono abiti veramente eleganti a un prezzo contenuto io comunque nel box informazioni vi metto il sito vi metto il link diretto al mio abito così lo potete vedere direttamente e davvero sono sicura che troverete qualcosa che vi piace perché la scelta è veramente ampia tra l'altro hanno anche tutta una sezione di giacche giacche invernali tipo parca con il pelo di vari colori sono veramente belle tanto per farvi vedere così un vestito questo qua per esempio è bellissimo mi piaceva veramente tanto però certo non era adatto a me però per farvi un esempio insomma di che tipo di cose potete trovare abiti vediamo se riesco ecco questo qui per esempio l'hanno inserito da poco è bellissimo anche questo è veramente bello a me piace tantissimo questo qua è veramente bello tanto per farvi capire un po' il genere che piace a me e il tipo di cose che loro hanno è bellissimo questo c'è anche blu vi faccio vedere non so un tipo di giacca per esempio ecco queste qui ci sono di vari colori io vi invito a dare un'occhiata al sito perché ci sono veramente tante cose per tutti i gusti i prezzi mi sembrano buoni ci sono cose che costano meno cose che costano un pochino di più ma comunque mi sembrano prezzi buoni e poi adesso appunto che stiamo andando incontro alle festività vi consiglio di guardare gli abiti eleganti gli abiti da sera che sono veramente belli ce ne sono alcuni come quelli che vi ho fatto vedere prima che sono bellissimi e quindi che vi posso dire ancora niente penso di avervi detto tutto io spero di aver assolto al mio compito nel migliore dei modi sono stata comunque molto contenta di poter così condividere questa mia esperienza di questa collaborazione con voi e io ringrazio tantissimo l'azienda per avermi scelta per avermi dato questa opportunità di provare uno dei loro abiti e niente io penso di aver finito spero di avervi detto tutto vi saluto vi aspetto al prossimo video ciao un bacio un bacio un bacio